A quattro anni dalla morte in campo di Pier Mario Morosini arrivano le sentenze di primo grado per i tre medici che il 14 aprile 2012 erano allo stadio di Pescara durante la partita di Serie B con il Livorno. Un anno di carcere al medico del 118 Vito Molfese, otto mesi invece per il medico sociale del Livorno Maglio Porcellini e per il medico del Pescara Ernesto Sabatini. Al centro dell'accusa le carenze nelle procedure di soccorso e in particolare il mancato uso del defibrillatore, nonostante ce ne fossero due sul terreno di gioco. Morosini morì a 25 anni per una rara malattia cardiaca ereditaria mai diagnosticata.